Ciao amici di Toretto Games, buongiorno! Venerdì 26 gennaio e anche oggi ci sono tante cose a raccontarvi su e-football, quindi non mi spreco in intro particolari e andiamo subito alle varie questioni da raccontarvi. Vi ricordo, questa sera il torneo ITG Kick-Off MyPad 26 gennaio, ore 21, arrivate un po' prima per fare il check-in e tutto quanto. Trovate nella descrizione del video e nel commento fissato in alto il link per scaricare MyPad su iOS e su Android e il link del loro gruppo Telegram per avere tutte le informazioni del caso. C'è il gruppo e poi c'è il sottogruppo su e-football. Se avete domande, se avete problemi di iscrivervi e tutto quanto, iscrivetevi al gruppo Telegram di MyPad e troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno o interverranno loro direttamente. Mi raccomando, non mancate, ci sono già tanti iscritti, ma se ancora non siete iscritti fatelo subito, così questa sera ci sarà un gran bel divertimento. Vi ricordo, ci sono in regalo delle valute in app per le prime posizioni e con queste valute poi si possono prendere degli omaggi. Non mancate, non mancate, non mancate. Io non posso che ringraziare ragazzi, un attimo, fare un passo indietro a ieri, ai 386, perché il primo like l'ho messo io, gli altri 386 che hanno messo mi piace ieri al video e facendo il nuovo record di mi piace del canale. Io non me lo aspettavo, sia per la delusione dell'aggiornamento, e adesso ne parlerò fra un secondo, e sia perché avevo anticipato un video gameplay verso mezzogiorno e mezzo, perché in tanti me l'avate richiesto. Invece ragazzi, l'abbiamo fatto il nuovo record, grazie davvero a tutti e 386, uno potrebbe pensare, vabbè, se ci vuole mettere mi piace. E in questo mondo ci sono tanti buzz, tanti input di fare questo e di fare quest'altro, quindi io vi ringrazio davvero a tutti e 386, mettetemi in piace a tutti i video che arrivano sul canale YouTube, anche a questo, e poi per il record ci proviamo giovedì prossimo, ovviamente il video server aperti che è il video più visto, e giovedì prossimo dobbiamo riuscire a fare quota 400, proviamoci, proviamoci, proviamoci. E poi volevo tornare un attimo sull'aggiornamento di ieri, non ne parlerò molto, qui c'è in version info nel sito ufficiale del gioco tutte le novità, tra virgolette, che sono quelle che vi ho letto ieri nel primo video della giornata. Ragazzi, è un aggiornamento minore, indubbiamente, anche se c'è qualche novità alla telecronaca, anche se io ho visto pure gli allenatori, c'erano già, io non li avevo visti mai, non ci avevo fatto caso, ma forse non ci avevo fatto caso io. Qualcuno ha notato il miglioramento grafico delle reti, però è cambiato poco, è cambiato poco, indubbiamente. Ma il problema, secondo me, è come di consueto con Konami, è la comunicazione. Se tu fai versione 3.3.0, ci si aspetta un aggiornamento importante. E se si chiamava 3.2.1, secondo la mia opinione, il 99% delle polemiche non ci sarebbero state. L'1% sicuramente, perché tanto c'è una percentuale, come dire, di fondo, di polemiche. Ma l'altro 99%, che è legittimo, perché anch'io mi aspettavo qualcosa di più a questo punto, vedendo 3.3.0, non ci sarebbe stato. L'errore è sempre, secondo la mia opinione, nel buon 90% dei casi, gli errori di Konami di comunicazione, 90, 80, non lo so. E questo succede. Poi, tra l'altro, spostando l'aggiornamento a una settimana prima della nuova season, c'era ancora più povertà di novità, ovviamente. Già ci fossero stati i contratti mirati, le nuove campagne, eccetera, eccetera. L'effetto sarebbe stato differente. Non si è capito il perché di questa ragione. Vabbè, i campionati giapponesi, va bene tutto, ma allora lo chiamavi 3.2.1 e avevamo risolto il problema. No, lo chiami 3.3.0 e questo succede. Io, ragazzi, vi avevo fatto una previsione qualche settimana fa, ancora quando non era stato annunciato, dicendo che, secondo la mia opinione, una mia teoria, qualcosa di più corposo, non so cosa, crossplay, modalità cop offline, l'editor, la master league, io non credo la master league, insomma, comunque qualcosa di questo genere, qualcosa che non siano i contenuti del Dream Team, eccetera, qualcosa di nuovo per la cop, queste cose qui, cioè nuove modalità, nuove funzionalità del gioco, ci sarà da aspettare fine inverno, inizio primavera, perché l'anno fiscale per Konami finisce a marzo, i conti sembra che siano molto positivi, secondo la mia opinione, appunto, come successe anche col Dream Team, le novità funzionali, sostanziali, di contenutistica, che non siano i contratti mirati, queste cose qui che possono arrivare, che sono contenuti del Dream Team, no, proprio nuove modalità, le potremo vedere, secondo la mia opinione, fine inverno, inizio primavera. Poi staremo a vedere se ci avrò preso o meno, questa è la mia opinione, io vi dico, ricordatevi, inizio primavera, fine inverno, più inizio primavera, io penso ad aprile, staremo a vedere, staremo a vedere, cioè la nuova season, la prossima season, secondo me, durerà un paio di mesi, febbraio-marzo, vedremo se le mie ipotesi sono state corrette. Lo dico io, in base a un ragionamento, nessuna indiscrezione, nessun dietro le quinte. Staremo a vedere se sarà così, comunque, indubbiamente, questo aggiornamento 3.3.0 è stato minore, chissà perché Konami l'ha voluto chiamare così, ci avranno delle metodologie interne, non lo so. Errori di comunicazione, detto questo, andiamo oltre. Io continuo a giocare, ieri ho fatto tre belle partite, mi sono divertito, due le ho vinte, una l'ho persa. Anche questa sera ci sono tre belle partite da vedere, le ho già registrate ieri, è per quello che ve lo dico, quindi non mancate l'appuntamento alle 8 e poi oggi ne giocherò altre. Allora, passiamo dal passato al presente e al futuro. Allora, gli è successo un bel macello perché l'argomento è Roberto Baggio. Cosa è successo? È iniziato a girare questa immagine, questo elenco di GDE e FSMaker, in cui riportava i nuovi volti arrivati con l'aggiornamento 3.3.0. E allora, Baggio, delirio, macello. E cosa succede? Che anche sui Football Hub arriva l'aggiornamento del database, ricordo che i Football Hub non è un sito ufficiale di Konami, ma in questi tre nuovi giocatori c'era Cannavaro, Macherele, Casamiro, Lautaro Martinez, altre versioni, si vede, Leao, Rijkaardt, Baggio, adesso ci torno, non vi preoccupate, Skoll, Neymar Junior, Romario, Gerard, Roberto Carlos, Scafu, Cordova, Van Vissacqua, Marziale, Eriksen, Cialanogo, Calabria, Tomori, Mkhitaryan, De Vrij, Giroud, Belletti, Denilson, Mertesacker, Stoicovic, Ambrosini, Kawaguchi, Stoichkov, Werner, Joseph De Soza, Kazza, Isquili e Messiniti. Quindi Baggio è nel database di eFootball, se lo riporta i Football Hub, state certi che loro sono dei dataminer molto corretti, lasciate perdere il logo della Juve perché non è che ritorna la Juve come squadra partner, queste sono grafiche di Football Hub che appunto non è ufficiale. Però ragazzi, tanti quando sembra che io voglia infrangere i loro sogni, mi scrivono lo sai che torna al Baggio, lo sai, arriva Baggio, è ufficiale. No, ragazzi, Baggio è nel database. Ora, questo può significare che arriva anche lunedì, eh? Teoricamente può arrivare lunedì, ma teoricamente potrebbe non arrivare mai o arrivare fra un anno, fra due, perché ci sono stati casi in cui i giocatori sono stati inseriti nel database e sono passati mesi se non anni. Un esempio, MyCon, MyCon era stato inserito nel corso della stagione di Football 2022, MyCon è arrivato in iFootball 2023 dopo mesi e mesi e mesi. Poi lo ripeto, potenzialmente Baggio potrebbe arrivare anche lunedì, potrebbe, ma potrebbe anche arrivare fra un anno, fra due, mai. Con Konami non si può dire nulla, ma non perché è Konami, perché loro inseriscono nel database e poi dopo lo gestiscono loro le uscite per ragioni di marketing, per ragioni di licenze, eccetera, eccetera. iFootball Hub trova soltanto quello che c'è nel database. Ovviamente si creano anche delle piccole confusioni, però loro fanno il loro lavoro, ci mostrano quello che c'è nel database. Sta a noi, giocatori e content creator, dire che il database è una cosa, l'uscita del giocatore nel gioco è un'altra. Solo e soltanto quando Konami dice esce Baggio e lo troviamo nel gioco, esce sicuramente. E lo ripeto però, se sta nel database può uscire anche lunedì, ma potrebbe uscire anche fra un anno, fra due o mai. Un esempio? Ecco, questo è Biagio. Si, Biagio. Baggio dice che ha abilità a doppio tocco, Veronica, sombrero, taglio le spalle e giro, uso della suola, tiro a lontano, finalizzazione acrobatico, passaggio i primi, esterno al giro, il leader. Quindi loro hanno una visione di quello che dovrebbe essere il giocatore. Però ragazzi, attenzione. Eccolo qui. Diego Armando Maradona, versione Napoli. Lo stiamo vedendo da più di un anno e ancora non è uscito. Lo ripeto, non è solo Maradona. Ho parlato di Maicon, è entrato nel database, è uscito dopo mesi, mesi e mesi. Ci sono giocatori che sono arrivati nel database e tre giorni dopo sono usciti. Può essere tutto, però io lo dico per voi se poi rimanete delusi fra un mese, due mesi, tre mesi, non è ancora uscito. Ripeto, potrebbe uscire anche lunedì. Più di questo, più di dirvi questa cosa qui. Non so cosa dirvi e non so perché qualcuno di voi si nervosisce quando gli risponde in questa maniera. Che è così ragazzi? Che è così? Se c'è qualcuno, c'è qualche influencer, non lo so, Io ho sentito in giro tutto informazioni corrette sul tema di Baggio da parte di altri influencer. Magari, non so, qualcuno minore che invece dice che Baggio è ufficiale arriverà sicuramente. Sbaglia. Diciamo, io che ho sentito ha riportato correttamente le informazioni su questa storia. Baggio è nel database di football. È vero? Baggio si sa quando esce? No, non si sa. È sicuro al 100%? No, non è sicuro al 100%. È molto probabile. 90, 95? È quasi certo. Ma non è sicuro. Lo ripeto, voi l'avete visto Maradona versione Napoli? No. Quanto avete aspettato per MyCon? Mesi, mesi e mesi. Poi, ripeto, ci sono giocatori sennariati nel database e tre giorni dopo sono arrivati nel gioco. Io più chiaro di così non posso essere. Sicuramente qualcuno scriverà qualche commento inappropriato. Ne sono certo perché tanto succede, ma spero che il 99% di voi abbia capito correttamente. Ora, in i Football Hub non ci sono solo quei giocatori nuovi che staremo a vedere, come usciranno molti giocatori del Manchester United, dell'Inter, del Milan, altre leggende. Ci sono questi quattro strani giocatori del Giappone. Non so, sono girati i video, non so se siano influencer, comici. Non penso che siano giocatori con queste valutazioni. E non so, eppure se questo pool uscirà al di fuori dei confini della terra del Sol Levante. Ci interessa molto di più che lunedì arriveranno questi giocatori attaccanti italiani della campionata italiana in evidenza. Turam dell'Inter, Raspadori del Milan, sì del Milan, ciao del Napoli, Lukaku della Roma, Immobile della Lazio, Ciuqueze del Milan, Beltran della Fiorentina, Ken, non si sa per quanto della Juve, e Zirkze del Bologna. Loro sono abbastanza certi. L'ipotesi, il buon Fabio, il carissimo Fabio, a proposito, la maglia di GDF Maker, me l'ha girato il buonissimo Francesco Leggenda 88, mi sono dimenticato di ringraziarlo, lo ringrazio ora. Questi tre giocatori sembrano in uscita lunedì. Quindi Atalanta, Evair, mitico attaccante brasiliano, Del Piero non ha bisogno di presentazioni, e neppure Milito. Però, attenzione ragazzi, dal database proprio di football io vedo sicuramente che c'è Del Piero, ed è probabile che sia lui. Però c'è anche Ronaldinho in questa versione, è già uscito in questa versione, non me lo ricordo, però io ve lo faccio vedere perché a volte i giocatori tornano pure. C'è Milito, assolutamente, e c'è indubbiamente anche Evair. Quindi l'ipotesi che gira in questi concept, perché quelle non sono immagini ufficiali, sono Evair, Del Piero e Milito, occhio però che c'è pure Ronaldinho con la grafica. A volte quelle immagini lì ci prendono, a volte no. No, un paio di settimane fa, uno su tre era corretto. Quindi, occhio, io vi dico che c'è pure Ronaldinho. Non dico che ci sarà sicuramente, però nel database è con la stessa grafica di Evair, di Milito, di Del Piero, e anche lui è stato un attaccante del campionato italiano. Ragazzi, per il momento è tutto, spero di essere stato chiaro sulla questione Baggio, perché a me, cioè, non capisco perché davvero qualcuno mi risponde in modo innervosito al fatto che gli dico come stanno le cose, e non lo dico soltanto io, lo dicono tutti, e lo dice soprattutto la storia di come sono andate le cose nel database di football. Spero che sia chiaro tutto. Io ringrazio ancora i 386 lakers. Dico a uno dei due di voi, perché il 50% che vede questi video è già iscritto, all'altro 50% che viene iscritto al canale, di farlo subito, perché così magari arriviamo subito a quota 20.000, magari a 30.000, visto che la metà di voi non è iscritta. Vi do appuntamento questa sera con il TG Tech, con il campionato, il TG Tech oggi pomeriggio in zona community, invece vi svelo il prossimo regalo della prossima settimana, che è un gioco per PS5 di calcio, è un bellissimo gioco di calcio, il regalo codice download per PlayStation Store, non mancate tutti i dettagli, li ripeto, ve li fornisco oggi pomeriggio in zona community. Anche per queste iniziative iscrivetevi al canale, così ricevete tutte le notifiche. Ragazzi, per il momento è tutto, buon inizio di fine settimana, fatemi sapere cosa ne pensate di Baggio, secondo voi quando arriva, ipotesi si possono fare, ovviamente. Le certezze? No, non ce l'ha nessuna se non Konami, magari non ce l'ha neppure Konami, magari ancora non ha deciso, lo ha messo solo nel database. Cosa ne pensate del pool che arriverà lunedì degli attaccanti del campionato italiano, chi se secondo voi arriverà? Cosa ne pensate dell'aggiornamento 3.3.0, se è stato solo un problema di comunicazione o anche altro? Insomma, di tutti gli argomenti che abbiamo toccato stamattina. Grazie ancora a tutti e buona giornata. Ciao! Ciao!